Sì, maestrali oggi. Cari miei, con le altre giorni sono maestrale. Oh dai, potessi domani, qui cambia subito. Poi è finito il maestrale con un sciocchiolo. Non si sente quel rumore del vento. Sì, vittorio, ma che dubbi? Dobbiamo andare lassù? Sì. Grazie. 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 Che vidi sono andato in montagna ecco stiamo facendo un'escursione. Quello su è il rifugio. Quello su è il rifugio. Quello è la torre San Giovanni. È una fatica per salire... Vediamo il panorama sopra. E poi su nel Tirolo c'è anche il mare. Incavanto il mare, farglielo vedere. Qui è calmo, qui là è mosso. Adesso andiamo sopra. Non è il Lugo di Fraias, è il mare questo. Guardate il trenino che è fuori su questo Ah che carino Ma tommate ricordi il trenino su dalla montagna? Quello è un piccolo Questo non si può piacere tutto Se non fatti così Ok Non si sente Non si sente Non si senti Non si senti Non si senti Ah no Non si senti Non si prendi da qui, non si senti Arrivo Bellissimo Spettacolo di qua Il mare aperto mosso Questa è la penisola del Sinis Ecco le insenature che cosa Sono pure i senzieri A sinistra tutto caldo A destra tutto mosso Non è mandallaggio Non vedo spiagge no Non ci sono spiagge là Non vediamo Qui si ha giudato? Ho giusto Allora 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.